Lo scorso sabato, dopo l'incontro con i commercianti di via risorgimento e del lungomare, il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, è intervenuto in diretta su Cilento Channel per parlare proprio dell'argomento su cui più si discute in città, la chiusura del lungomare San Marco. L'idea di partenza sulla quale stiamo lavorando, afferma Coppola, è la possibilità di dare alle attività del lungomare e di via risorgimento maggiore spazio. In particolare stiamo pensando ad una chiusura totale tra le 21 e 24 per consentire il passeggio in sicurezza. C'è da decidere per il resto della giornata se confermare l'attuale doppio senso o permettere solo un senso di marcia, con la corsia libera che andrà ai commercianti. Il sindaco poi ha parlato anche delle sensazioni dopo l'incontro con i commercianti. Gente mi ha aspettato anche davanti ai locali chiusi per parlare. Si è discusso a 360 gradi della crisi e delle soluzioni. C'è la condivisione di tutti riguardo lo spazio da ricercare per poter lavorare in maniera concreta, a parte per alcuni casi rari, che si sono posti come contrarie all'ipotesi. Il senso era proprio quello di parlare con ogni commerciante per prendere le decisioni e la cosa positiva è che la grande maggioranza ha voglia di novità e di vedere un lungomare diverso. Organizzeremo le notizie raccolte e troveremo questo equilibrio. Servirà ancora qualche giorno per ricevere tutti gli ok necessari e per concretizzare il percorso che andremo ad attuare, conclude il primo cittadino. Tanti locali credono nel passeggio serale. Sulla scelta di chiudere il lungomare di sera sembra esserci entusiasmo e nonostante una piccola parte di critiche sull'idea, ormai sembra sempre più sicura una sua realizzazione.